e anche oggi un plum cake buonissimo quando cerchi una ricetta solo una formula è perfetta se vuoi vivere con gusto due cuore una cappa è il posto giusto bene ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale si il canale giusto dove le nostre ricette non vengono testate sugli animali no no insomma no cruelty free brava brava io queste cose non è vero perché bucle ogni tanto un pezzo di dolcino anche se non si dovrebbe fare se lo mangia quindi le nostre ricette non sono cruelty free ma sono testate anche sugli animali e giusto appunto guardate chi c'è qua un ciuffo un ciuffo bianco bene ragazzi scherzi a parte oramai si cerca dappertutto di essere vegan cruelty free bla 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 blu 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 oggi no una ricetta tradizionale niente vegan niente farine non raffinate tutto raffinato tutto molto molto fine è un plum cake veramente buono con solamente una cosa bio ma buonissimi i kumkot cioè dei mandarini cinesi calabresi perché questi sono made in calabria la settina ce l'ha scritto così bene e quindi comprate prodotti italiani anche se sono diciamo esotici o comunque vengono da altre va bene e basta guardate questo plum cake quanto è buono e quanto è semplice da fare spostiamoci di là e vediamo come si fa benvenuti qui a una ricetta di due cuore una cappa eccoci pronti il canale giusto dove la dieta è una parola che non conosciamo e non capiamo dai finiscila allora eccoci pronti per un buonissimo saporitissimo veramente strepitusissimo plum cake veramente all'aroma di agruma veramente abbiamo scelto i mandarini cinesi abbiamo democraticamente eh io ho deciso così bravo è fatto bene potete farlo alternativamente con due mandarini bio oppure con la scorza e il succo di due arance oppure con la scorza di due limoni e il succo di uno allora anzi con la scorza di un limone e l'intero succo di uno per avere una profumazione molto molto intensa allora cominciamo subito farina rigorosamente 00 su richiesta di gabriele 250 grammi zucchero bianco 130 grammi potete sostituire tutto con i corrispettivi integrali poi occorreranno 60 grammi di burro e 20 ml di olio di semi di mais o di girasole li ho messi insieme l'olio è quasi trasparente ora farò fondere tutto al microonde due uova intere 65 ml di latte una puntina di sale che io vado a raggiungere direttamente nelle uova guardate lo faccio insieme a voi prendo il cucchiaino metto la punta del sale nelle uova non aggiungi il pepe? no una bustina di lievito per dolci un cucchiaino di essenza di vaniglia io ne metto proprio così un tappino che aggiungo direttamente nelle uova così non me li dimentico 8 mandarini cinesi buonissimi e dolcissimi fateveli dare dolci questi sono dei mandarini cinesi molto strani sono dei mandarini de kumkot fatti in calabria quindi mi piacciono ancora di più ma quindi non sono cinesi sono cinesi di calabria sono calabrisi va bene adesso andiamo a fare il nostro brown cake adesso come prima cosa dobbiamo fare la seguente tagliare a metà i mandarini cinesi ed estrarre i semini i mandarini cinesi in questo periodo essendo mandarini sono molto molto in là con la maturazione sono quasi secchi è rimasta soltanto si può dire la scorza dolcissima veramente buonissimi vedete non sono pieni di succo il succo invece è molto aspro questo periodo non ce n'è nel frattempo faccio fondere il burro per portare avanti la nostra ricetta utilizzeremo il mixer mixer yes allora metto tutti i miei mandarini ben mondati no abbiamo tolto semplicemente i semini all'interno del mixer poi che c'è verso le uova la vaniglia e il sale che sta scendendo in questo momento perfetto poi verso il lattussio col mixer che useremo perché useremo il mixer per fare veloci veloci do una prima frullatina e poi affilo verso anche il burro fuso e l'olio a questo punto metto dentro anche lo zucchero tutto quanto stacco un attimo prendo il mio mini setaccio e setaccio il mio lievito nella farina per poi versare così d'amblè tutto dentro al mio mixer è una una ricetta molto molto veloce devo passare per forza al colino così a setaccio il lievito perché questo lievito è molto compattato granuloso sì giusto senza colpo ferire verso tutto dentro brava non hai versato proprio tutto al centro non importa tanto adesso la forza centrifuga capito centrifugherà e adesso alla massima putienza staccate una volta dalle pareti ma come vedete già l'impasto è super pronto è bello cremoso guardate qua mmm c'è dei bei pezzi dentro di di cosa? di cuncott di cuncott te la ricordi la pubblicità del cesar? no c'è dei bei pezzi del ciappi del ciappi sì del ciappi però te la ricordi no vado foderò il mio stampo ho semplicemente bagnato un attimo le pareti con dell'acqua giusto per far restare in loco il tutto faccio un giro di spatola non si sa mai un po' di polvere non sia stata presa ma non è questo il caso verso dentro bene questa meraviglia adesso va in forno a 175 gradi con forno ventilato nel primo binario del forno fate scorrere una leccarda piena d'acqua in basso nel secondo binario mettete la griglia e poggiate lui e ricopritelo con dell'alluminio che chiuderete bene prima da un lato bomberete un po' così e chiuderete un po' così a caramella ma la parte più difficile di uspare di certo è questa questa qua bombare l'alluminio bene fate cuocere così per 45 minuti anche 50 fate la prova stecchino ma per chi ha il forno statico invece? per chi ha il forno statico aumentate di 5 barra 10 gradi quindi 180-185 gradi e aumentate anche il tempo di cottura di qualche minutino in più badate bene alla leccarda del forno che sia ben piena è molto più importante che non nel forno ventirato e soprattutto fate sempre sempre la prova stecchino in forno ed eccolo non appena sfornato sfornato da 10 minuti è già fresco no è già intiepidito guardate non sembra un maxi plum cake del mulino bianco è bellissimo con il fatto che era coperto la cottura vedete come è venuta dolce se no qui si sarebbe bruciato vedete il forno ventilato che va proprio a circolare quest'aria che brucia le parti più esterne che fa? lo sformiamo? si si facciamolo ci proviamo? è un peccato pure mangiarlo si veramente veramente bello ora faccio le foto e poi lo taglio però io volevo farlo raffreddare qui sul legno e non sul piatto perché il vapore il piatto non lo assorbe mentre il legno si e quindi sono più contenta e allora taglio in diretta? taglio al centro? taglio di lato? come preferisci? taglio di lato taglio di lato una fetta per te? si è ancora tiepido quindi magari fuma adesso che lo taglio e voilà si sta fumando guardate che bello si può capire è bellissimo ci sono pure le alveolature che hanno creato i mandarini no? i pezzetti di mandarino buonissimo volendo si potrebbe aggiungere uno yogurt? si volendo se volete poi vi faccio anche il plum cake del mulino bianco quello proprio allo yogurt fatemelo sapere tra le ricette ecco vedi guarda che bella questa fetta voilà bene tutti i colori del mandarino tutti i spezzetti morbido morbido un profumo ragazzi che è una poesia niente raga vi lascio le foto e noi ce ne andiamo a papare una fetta ciao ciao amici bene avete visto come si fa questo plum cake io lo chiamo plum cake non mi interessa niente della pronuncia sono italiano e la pronuncio va bene il plum cake ha l'ignoranza il plum cake buonissimo buonissimo davvero morbidissimo saporitissimo con questo retrogusto agrumato freschissimo veramente delizioso ma neanche troppo neanche troppo neanche troppo il giusto ben bilanciato perché c'è il burro se lo volete più sfacciato mettete solo l'olio e vedrete che vi spara in testa quel mandarino lì provatelo fateci sapere se vi piace dopodichè lasciateci 20.000 pollici in su fateci sapere qua sotto qual è la cosa che vi è piaciuta di più condividete la ricetta fate conoscere il canale grazie a tutti per gli apprezzamenti sulla sigla noi non siamo dei cantanti non siamo bravi ma ci è piaciuto fare questa cosa così che ci rappresenta estemporanea che ci rappresenta e che soprattutto c'ha un sacco divertito nel farla bene quindi anche solo per questo nel valzo da pena grazie quindi ringraziamo sempre voi continuate a seguirci e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo dolcissimo video ciao l'hai imparata grazie a tutti